Oggi c'è anche il governo Un'azienda di soffra Un'azienda di soffra Dopo te lo tolgo Infatti non ci hanno le parelli dietro Se lo mette più a quello di quella Marefatti Mattarellum Mattarellum Che va a chiamare la Presidente Per vedere il suo lavoro Senatore, lei oggi ha presentato questi emendamenti Questi sub-emendamenti, mi scusi Perché il governo è rimasto sordo Le sue richieste di ieri? Il governo dice di voler meditare E noi lo facciamo meditare ancora di più Avendo più materiale a disposizione Sono certo che nel fine settimana Vorranno approfondire i 5.000 E rossi emendamenti Oggi ce n'è uno anche di legno Quindi per tabulas E' un'azienda di soffra